Dopo tanti sacrifici siamo riusciti ad aprire il centro diverso, la nuova versione del centro diverso che con tanti sacrifici, tante notti, tante riunioni, tante arrabbiature alla fine hanno fatto sì che abbiamo realizzato quello che potete oggi, sono la luce di tutti quanti, gli occhi di tutti quanti e con piacere quindi do il benvenuto a tutti a quello che è la nuova versione dell'universo 2.0 La vostra è una grande famiglia ma in particolare è una famiglia allargata perché questo gruppo è davvero come una famiglia Sì sì sì, noi ogni volta che iniziamo un'attività impenditoriale i nostri partner diventano in automatico parte integrante della nostra famiglia perché con loro condividiamo delle scelte, condividiamo le strategie, condividiamo tutto quello che riguarda il business legato a questa iniziativa quindi i vari partner come possono essere il cinema, i dentisti, la zona food, l'ipermercato, sale e giochi e quant'altro con loro abbiamo studiato quello che poteva essere la strategia, i contenuti di questo nuovo centro commerciale con quelle che sono le attrazioni, come fare per portare gente, come fare per attrarre sempre nel rispetto del cliente e del gestore